Uno spazio virtuale ma che vuole trasformarsi in una rete concreta che possa accogliere non solo le famiglie di ragazzi autistici ma anche chi attraverso il proprio tempo, il proprio talento e la propria disponibilità voglia dare una mano affinché questi ragazzi e le loro famiglie possano avere aiuto morale e fisico. C'è tutto questo nel Workspace Ama Filippo, un sito web e una pagina Facebook messi su da Maria Grazia e Stefano, genitori di Filippo per l'appunto, un ragazzo con disabilità gravissima che oggi diventa il simbolo e il portabandiera dei desideri e delle necessità di chi quotidianamente convive con l'autismo. Ama Filippo non è uno spazio dedicato ai disabili ma uno spazio dedicato a chi ha sensibilità verso il mondo dei disabili, cioè a quelle persone che hanno capito che il problema della disabilità non è solo di chi lo vive in prima persona. Un progetto che nasce dai social e vuole diventare concreto consiste nel cercare persone che confluendo in questa pagina e aderendo a questa pagina soprattutto nello spazio del Workspace e ci aiutino a progettare appunto un futuro migliore per Filippo ma anche per tutti, per chiunque vorrà aderire a questo progetto che ha problemi appunto che ha a che fare con la disabilità H24, soprattutto quella disabilità grave che necessita di un'assistenza continua. Il Workspace di Ama Filippo è uno spazio multidisciplinare e multifunzionale attraverso il quale ogni interessato al delicato tema del benessere e della dignità dei disabili potrà offrire la propria testimonianza, le proprie idee ed eventuali proposte di soluzione agli attuali limiti burocratici, economici, politici, strutturali, ideologici e culturali che impediscono di fatto la realizzazione di una società matura e vicina al concetto di civiltà. Spesso ciò che notiamo noi famiglie, quello a cui assistiamo ogni giorno è che spesso questi ragazzi vengono lasciati soli e non hanno una compagnia per andare in pizzeria, per fare una passeggiata, anche per sedersi al bar a prendere un aperitivo e quindi si cerca di creare una rete sociale appunto al momento virtuale attraverso la pagina che poi si spera diventi appunto fisica e di persone che si mettono a disposizione sia come tempo, sia come idee, sia come esperienze, sia come talenti appunto ed è rivolta a tutti, è aperta a tutti, può aderire chiunque, da esperti nel settore sanitario, nel settore istruzione giornalisti, avvocati, attori, cantanti, tutti perché lo scopo è quello, la nostra frase è adotta un disabile Adotta un disabile significa anche che chi può dare il proprio sostegno economico per situazioni che spesso sono al limite veramente della necessità? Sì, purtroppo con le pensioni elargite dalle istituzioni spesso le famiglie non riescono a far fronte a tutti i problemi che si presentano quotidianamente e spesso questi ragazzi disabili, queste persone disabili oltre alla loro patologia specifica della disabilità hanno altre patologie associate a volte anche non riconosciute dal sistema sanitario nazionale per le quali occorrono tantissimi, insomma, tanti fondi, fondi che a volte ci sono famiglie che veramente sono in condizioni da non poter affrontare questa situazione quindi perché no? Banca un po' di tutto, banca del tempo, banca delle idee, banca delle esperienze, banca anche economica tante le persone che hanno già dato la propria adesione, tra questi anche il comico gelese Toto Galanti che ha realizzato un video satirico insieme a Filippo che verrà pubblicato a giorni sulla pagina Facebook Io ringrazio Carmela Ugello che è stato il nostro amico che ci ha dato tanto aiuto e ringrazio anche Antonio Di Gregorio che è un amico di vecchia data che si sta praticando anche a lui a darci un aiuto sostanziale Volevo ringraziare molte persone che già hanno aderito appunto allo spazio del workspace persone che già si stanno rendendo disponibili sia appunto a livello fisico che a livello virtuale apportando il loro contributo, le loro idee e anche la loro arte Ovviamente ringrazio sempre anche le persone che al di là della pagina anche in precedenza ci hanno sempre aiutate sono tante, sono tantissime, tra amici, parenti, anche conoscenti quindi è proprio questo quello a cui noi vogliamo mirare che ci sia sempre questa rete sociale attiva però fra tutti voglio ringraziare mio padre, il nonno di Filippo che è sempre stato presente nella sua vita Chi volesse aderire può farlo andando a cercare la pagina AmaFilippo su Facebook e registrarsi nello spazio del workspace Grazie a tutti Grazie a tutti.